Si è uscita, o non la pesa lei, o uscita da lei. Scusi che è questa, ma perché che è la scusa, io ho mai detto che è mia discrezione, che io mi sono imposto di fare questa cosa qui, è stata una serie di concomitanze, abbiamo deciso, abbiamo deciso, di me, 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 ma guarda che dicevo, non è una critica, uno, voi chi la deve dappurare? Voi chi, voi chi, voi chi, voi chi? Lo consigliere di Vecchia, non si rende buono, io mi rendo buono, è lei che non si rende buono, che stiamo strumentalizzando una cosa che non ha proprio sempre, va bene, Si è uscita, non si tratta di un suo ruolo in maniera, no, mestina. No, 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 non vado a fare, non vado a fare, perché le cose si pense, guarda i articoli sulla stampa, no, e poi si capisce cosa è il mio, no, a apri, io mi sono a stampa e non uscire, è tutto scusato, io mi sono a stampa, io mi sono a stampa, io mi sono a stampa, sono uscire. Grazie. Grazie.